Il silenzio non è d'oro Soprattutto ai medici e agli operatori sanitari, di cosa si tratta? Perché è in quel posto, spiegargli che cosa dovremmo fargli e perché dobbiamo fargli qualcosa. Chiaramente questo messaggio, questa comunicazione al bambino è diversa a seconda dell'età, perché diversa è la maturazione del bambino, diversi sono i suoi mezzi per recepire la cosa. Ma il silenzio che molto spesso magari i genitori vorrebbero mantenere o ancora peggio, il fatto di ignorarlo e di parlare con i suoi genitori come se lui non potesse capire o sentire è una cosa estremamente negativa. I bambini hanno proprio le antenne, i bambini captano, sentono e non sempre riescono a elaborare in maniera adeguata quello che viene detto proprio per l'età, per il contesto, per tutto. Lei prima ha tirato in ballo i genitori che sono un aiuto ma a volte anche un ostacolo, soprattutto quando si tratta di dover comunicare ad un figlio la propria malattia. Esatto, i genitori chiaramente sono i tutori naturali del bambino ed è a loro che va la prima comunicazione, che va la prima informazione, hanno diritto di decidere per il loro bambino e naturalmente questo è stato anche un lungo lavoro di tutta la bioetica del nostro comitato in particolare, il primo comitato etico nato a Padova, di cercare di occuparci di comunicazione ai genitori che non sono solo i genitori, c'è tutto un contesto, ci sono i nonni, ci sono i fratelli, c'è la famiglia e c'è questo bambino in mezzo a questo. Quindi già questa è un'arte che abbiamo cercato di insegnare sia ai nostri colleghi del dipartimento, sia agli specializzanti, ai giovani medici. Abbiamo cercato di fare dei convegni proprio per cercare di trovare il sistema migliore di arrivare ad un'alleanza terapeutica con i genitori di questo nostro bambino e solo così anche il bambino potrà accettare. Se i genitori accettano, accettano il programma, anche il bambino lo accetterà. Ma poi abbiamo voluto fare un passo avanti, abbiamo cercato di vedere e abbiamo visto in tante situazioni come anche il bambino abbia bisogno proprio di una comunicazione diretta fatta per lui in cui gli si spiega che cosa è successo, perché è lì, lo si cerca di tranquillizzare cercando di mostrargli le cose positive e le difficoltà e di spiegargli il motivo per cui si fanno un certo tipo di trattamenti, di esami, di cose. Anche perché lei prima mi raccontava del trauma di un bambino che si sente dire dei paroloni a riguardo della sua malattia di cui non lo conosce assolutamente significato. Il bambino l'iter normale purtroppo con i nostri tempi si va dal pediatra e si racconta è successo così, così, il bambino è rimasto fermo, immobile, con gli occhi rovesciati, con i denti serrati, senza coscienza, credevo che morisse. Il bambino sente questo discorso due, tre volte, magari per una crisi convulsiva che in fondo è un evento assolutamente non grave della vita così. Naturalmente il vissuto del bambino è diverso a seconda dell'età e può essere un vissuto estremamente negativo. Tornando al libro, nel libro voi ripercorrete anche diversi tipi di malattie, cioè una comunicazione diversa in base alla malattia. Esatto, partendo proprio da questa convinzione che tutti i pediatri del Dipartimento ormai hanno di quanto importante sia parlare con il bambino e riuscire a comunicargli quello che gli sta succedendo, abbiamo chiesto a tutti i nostri colleghi, quindi ai cardiologi che hanno i bambini con malformazione cardiaca congenita, ai colleghi che si occupano del bambino ostionato, ai colleghi che si occupano della gastroenterologia, dei tumori cerebrali, della terapia intensiva, di scrivere e di farci conoscere, di mettere insieme i loro vissuti, la loro esperienza proprio nella comunicazione, prima di tutto ai genitori ma poi a questi bambini. Quali sono le difficoltà, quali sono i mezzi, quali sono i risultati che si ottengono in questa maniera. E questo proprio perché vorremmo che questo libro fosse una guida per i genitori, per gli operatori che si occupano di bambini, infermieri, colleghi di vario genere, pediatri di base, proprio perché la nostra esperienza, siamo in tanti, è un'esperienza di anni maturata nell'ambito della pediatria, dove ognuno è diventato specialista di un certo ramo e maturato anche proprio all'ombra di questo comitato etico che è stato il primo nato a Padova e in cui ci siamo formati e abbiamo cercato di fare proprio formazione e di discutere casi clinici, di vedere le difficoltà, eccetera. E anche noi ovviamente ci auguriamo insieme a lei che questa alleanza terapeutica diventi fattiva. Noi ringraziamo la professoressa Paola Drigo per essere stati con noi. Io vi lascio al Meteo e all'Almanaco e vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi li trovate sul canale YouTube di Telechiara.